Cioè ma dico io non vi vergognate un pochino neanche, non vi vergognate per niente Non provate un minimo di vergogna Ma fate schifo fate, ma mettete la testa sotto la sabbia E ringraziate che non c'è stanno i tifosi allo stadio Se no sai fischi che cazzarola se sprecavano Se sprecavano a sta cazzarola di squadra e anche alla società Se sprecavano, se sprecavano cazzo Orca miseria oh Andate un po' affancina va Ciao ragazzi, buon pomeriggio Buon pomeriggio se fa per di, buon pomeriggio una mazza Buon pomeriggio Buon pomeriggio una mazza Sa perde 1-0 col Benevento Manca è finita la partita, manca un minuto e mezzo di recupero Quello che cazzarola sarà sarà Ma è una partita veramente vergognosa, vergognosa Vergognosa Primo tempo abbiamo cominciato, non ne parliamo Primo tempo precisione 0 Il Benevento che ci ha avuto un'occasione Dopo che la palla è stata messa in mezzo da Da non mi ricordo chi la patula mi sembra sfiorato col tacchetto Rigore che ci avevano assegnato Che secondo me è giusto non dare perché l'ha presa con l'anca Full on quindi è giusto non darla Però che cazzo non ci abbiamo mai fortuna Se la palla se la mette dentro Noi mai, gli altri sì, noi no Montipò poi è uscito con quel cazzarola di pallone in mano Manco il giallo se dà, è regolamente giusto che non gli dai il rosso perché la palla comunque la prende dentro l'aria Ma almeno il giallo a Montipò glielo vogliamo dare? Va bene Poi Morata si è mangiato un gol davanti alla porta Assurdo, assurdo davanti alla porta nel primo tempo Ci hanno annullato un gol perché ha fatto Ronaldo Insomma ha fatto una bella azione conclusa poi con Ronaldo Peccato che era in fuori gioco Poi per quanto riguarda i singoli Morata Morata veramente stasera Morata Morata inesistente proprio Ma Morata stasera stava con la testa O stava da un'altra parte e stava a pensare vacanze Ma dove era Morata? Stava a pensare la sosta dei nazionali con la Spagna Ma dove era Morata stasera? Morata inesistente Boh, la testa tra le nuvole c'aveva Poi Bernardeschi Bernardeschi niente Bernardeschi Bernardeschi non è buono a mettere in cross Non è buono in difesa Non è buono in attacco Non è buono a fare una mazza Non è buono a giocare a pallone Bernardeschi ancora che lo metti Non è un giocatore di pallone Mandalo via e finisce la storia Mandalo via Non è un giocatore di pallone proprio E tu invece devi metterlo in attacco Devi metterlo a Di fa e stai vicino alla porta Poi quello che cazzo Rola t'arriva t'arriva Tu lo metti vicino al portiere Lo metti A fa' il terzino Lo metti a fa' il terzino Lo metti Che poco poco sbaglia E oggi ne ha sbagliate parecchie De palle là vicino Poco poco sbaglia È gol Lo metti a fa' il terzino Lo metti a fa' il terzino Invece ti metterlo vicino al portiere Di stai fermo Quello che ti arriva Lo metti dentro L'animaccia vostra L'animaccia Indegni che altro non siete Il secondo tempo abbiamo cominciato Sembrava Sembrava con un più migliore Io mi sono appuntato tutte le occasioni Prima che affittamo qua Dopo domani Il secondo tempo ha iniziato Con tutti sti cazzarola di cross Uno da una parte Uno dall'altra Uno da un'altra parte Poi scita Poi è nata È andata in tribuna Al quarto anello Nessuno che li sfrutta Cross messi bene Una volta da Bernardeschi Cosa buona unica Che ha fatto Poi l'unico L'unico dribbling All'ottantasettesimo Bernardeschi Minchia Danilo che li metteva Dall'altra parte Niente Erano messi benissimo Per quanto riguarda Invece poi Kuluseschi Si è mangiato un gol Che cazzarola Invece di Pure Danilo Si era mangiato un gol Nel primo tempo Aspettato 40 minuti Prima di tirare Kuluseschi Si è mangiato un gol Davanti alla porta Stava davanti alla porta Si era dovuto a mettere Sul sinistro Babbì cazzo Spacca sta cazzarola Di porta Mannaggia la miseriaccia E spacchiamo sta porta Ronaldo Ci ha avuto un paio Di punizioni Tutte due sulla barriera Ha fatto un paio Di tiri Morata Poi si è mangiato Un altro gol Chi altro Danilo Si è rimangiato Un altro gol Ottantottesimo Ottantanovesimo L'ha mandata In quarta Anello Ma noi dove volevamo andare Ragazzi Io volevo fare un video Sinceramente Dopo i sorteggi Dei Champions A di che Se proprio ti andava bene Col Chelsea Tu Saresti potuto Anche passare Ci avresti potuto avere Una Una speranza Ma dove vuoi andare Ma che squadra è Una squadra senza un gioco Una squadra senza un allenatore Che non urla Non dice niente Inzaghi Oggi Non è stato fermo Un secondo Inzaghi Di qua e di là Indicazione dei suoi Dal primo al 94 E dai Ma mettici Zauli Che sicuramente Non può fare Peggio di Pirlo Zauli Per chi non lo sapesse È l'allenatore Dell'Under 23 Che io ho nominato 3000 volte In Giovani Bianconeri Dai un'opportunità Zauli Tanto il modulo Più o meno di Pirlo È quello 3-4-1-2 3-4-2-1 Zauli Peggio di Pirlo Non può fare Zauli Peggio di Pirlo Non può fare Almeno Una gavetta Dei 6-7-8 anni Ce l'ha Almeno un po' Di esperienza Tanto non lo può fare Non lo può fare Peggio di Pirlo Zauli Mettici spalletti Mettici chi cazzo Rola te pare Ma ritirate Pirlo L'allenatore Non è messiere tuo Non è messiere tuo Torna a far il vino Per favore Non è messiere tuo Non è messiere tuo Dai Pirlo Io con tutto il bene Che te voglio Sei stato un grande calciatore T'ho stimato Ho esultato Da matti Ai tuoi gol Quando ero più bambino Ma il messiere D'allenatore Non è proprio per te Mi spiace Andrea Ma devi fa altro Secondo me Non la penso solo io così Ma la pensano Gran parte I tifusi juventini E c'era pure Tutta la dirigenza Oggi al completo A vedere la partita Tutti Tutti Tutta la dirigenza C'era A vedere la partita Tutti c'erano E perché non prendono Sto cazzo di allenatore Per le orecchie E le mandano a casa Invece di continuare A tribolare Per tutta sta cavolo Di stagione Ma dove vogliamo andare Ma veramente Ma rischiamo manco Dalle prime quattro Da arrivare Se teniamo questo Ma dove vogliamo andare Noi poco poco Troviamo una squadra chiusa Troviamo poco poco Una squadra chiusa Ci fanno un Cioè io Soffriamo Soffriamo Se non segniamo Allora Con la squadra chiusa O segniamo a fortuna O non segniamo per niente Stasera che hai fatto Non hai segnato per niente Vabbè Che cazzo Rola vuoi fare Io veramente Avrò tirato giù Avrò tirato giù De tutto Guarda Veramente Non No guarda Raga Veramente Non ci arriviamo A fine stagione così Non ci arriviamo E ripeto Ringrazia Guarda Ringrazia Chi puoi tu Ringrazia Tutti Quelli che vuoi Che non ci sta Il pubblico Ringrazia Erano fischi Ma erano fischi Proprio A quest'ora io penso pure Che l'allenatore sarebbe saltato Sarebbe proprio saltato Quei fischi che c'erano Perché partivano le contestazioni A raffica Partivano proprio A pioggia Partivano Andatevene a fanculo Ragazzi Siete proprio indegni Toglietevi quella cazzo Di maglia Toglietevi Toglietevi quella cazzo Di maglia Toglietevi E ci vuole proprio Una rivoluzione totale Dal primo All'ultimo Dalla dirigenza Al primo All'ultimo giocatore Che nostra Sta cazzo di maglia Porca miseria Perché noi non ce la facciamo più Fai giocare fagioli Ormai la provate di tutto Fai giocare fagioli Fai giocare Peters Fai giocare chi cazzo Te pare Basta Bernardeschi Basta Artur 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 Dategli una maglia Del Benevento Artur All'andata gli ha regalato la partita Al ritorno gli ha regalato la martita Mannaggia la puttana Dategli una maglia giallo-rossa Dategli a sto cazzo Di Artur E che sparisca pure Dalla faccia della terra Veramente Dal mondo Juve Sparisca perché io veramente Io a questo Ci ho sperato in Artur Ho detto questo È un grande giocatore Artur Quando arrivato Ero contentissimo Ma a sto punto era meglio Pjanic Non avrei mai sperato Di di sta cosa Ma era meglio Pjanic Io mi sono rotto il cazzo Ho detto pure abbastanza Ciao ragazzi Buona serata E sempre Forza Juve Ciao